tantissimi auguri a federica beninca la ex corteggiatrice di uomini e donne quest'oggi ha finalmente potuto dire ai suoi follower la notizia che sognava di annunciare da nove mesi è nata proprio nelle scorse ore la sua tanto attesa primogeni la nascita della bambina è stata annunciata con una tenerissima foto caricata su instagram direttamente dall'ospedale dove la beninca è stata ricoverata per partorire nell'immagine social è possibile vedere la bambina il cui viso per motivi di privacy è stato censurato comodamente poggiata sul petto della neo mamma federica nello scatto in bianco e nero sembra che la donna abbia già iniziato ad allattare la primogenita dal seno per la piccola per il resto la ex ued ha scelto un nome semplice arian sono già in tantissimi i fan ad essersi congratulati con la beninca il post con l'adorabile immagine della neonata ha fatto incetta di lichè e commenti fra gli altri ad averle fatto gli auguri ci sono giorgette polizzi ester giordano davide petrucci e valentina rapid nel frattempo la beninca ha condiviso via instagram stories due immagini particolarmente emozionanti la prima è una foto del compagno calciatore ettore gli ozzi in ospedale mentre culla la figlia neonata fra le sue braccia mentre la seconda è una foto della bimba che riposa pacifica in mezzo alle lenzuoli questo è ciò che di più bello potrò mai vedere nella vita vi amo ha scritto federica beninca ancora molto provata dal parto ma estremamente emozionata stando a quanto scritto dall'ex volto di uomini e donne infatti mettere al mondo la piccola arianna deve essere stato parecchio difficile l'annuncio della nascita della bambina è arrivato intorno alle 19 mentre come raccontato dalla beninca via stories il travaglio vero e proprio è iniziato alle 5 del mattino una bella maratona l'influencer 27 n per il resto aveva dichiarato che il nome della piccola sarebbe stato rivelato già lo scorso maggio senza quindi mantenere la promessa sul sesso della nascitura invece si era esposta da subito federica beninca aveva commentato l'arrivo di una femminuccia con una certa ironia visto che nella sua famiglia ci sono già moltissime donne non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.